Manutenzione Pulizia automatica dei rulli, CIS e fotocellule Quando notate una drastica riduzione della performance di lettura e decodifica o la presenza di rigenere verticali sulle immagini ottenute, è giunto il momento di pulire il lector. Per eseguire la pulizia dei rulli, CIS e fotocellule, rimuovere il tegolino ADF, se presente questo optional. Rimuovere dall'imballaggio il panno di pulizia Bancor in dotazione con il lector. Effettuare la procedura di pulizia disponibile dalla console. Grazie al suo solvente specificamente studiato, il panno attraversando i rulli rimuoverà automaticamente i residui di inchiostro, frammenti di carta e depositi di polvere, se necessario ripetere l'operazione fino alla loro completa rimozione. Prima di riutilizzare il lector, si consiglia di eseguire la procedura di calibrazione disponibile nel medesimo menu della console, per rendere ottimale la qualità di scansione. Si consiglia di effettuare l'operazione di pulizia una volta a settimana, in modo da prevenire eventuali cali di prestazione. Più in generale, adattate la frequenza a seconda del volume di documenti lavorati.